Avete spesso sentito parlare di incubatori di imprese, di start-up e di start-up, di polo della meccatronica, di parchi tecnologici. Bene, questa mattina vi porteremo all'interno di queste realtà. Questa infatti è la settimana che la TGR Rai dedica all'Italia 2.0 e alle tecnologie al servizio del cittadino. Il nostro viaggio inizia a Rovereto nella sede di Trentino Sviluppo, dove si sta sviluppando il polo della meccatronica. Manuel Codignoni. Ci troviamo a Rovereto, nel famoso polo della meccatronica. Alla mia sinistra potete vedere il corpo principale di questo edificio, che è dedicato proprio a questo particolare tipo di disciplina tecnica. In questo polo trovano spazio aziende più grandi, come la Bonfiglioli, come la Dana, che presto arriverà, ma anche aziende piccole, piccole start-up che nascono qui e qui hanno la possibilità anche di collaborare con aziende più grandi. Luca Capra, quanti sono gli spazi occupati in questo momento nel polo? Gli spazi sono circa 8.000 metri, occupati su una superficie di 17. Quante sono più o meno le persone che ci lavorano? Abbiamo circa un centinaio di persone che lavorano nel polo della meccatronica, comprendendo sia l'edificio in cui siamo adesso e anche alcune aziende meccatroniche che sono sparse nel resto del polo. Ecco, vogliamo spiegare un po' ai profani cosa significa meccatronica, perché penso c'è ancora un po' di confusione su questo termine. Un mix di meccanica, meccanica tradizionale, elettronica e diciamo intelligenza, quando parliamo intelligenza poi parliamo di software che in qualche modo gira su qualche dispositivo elettronico. Ad esempio i dettatori domestici moderni, i quali ad esempio una lavatrice, sono dispositivi meccatronici. Ecco, qui al polo della meccatronica ci sono sia aziende grandi, come si diceva prima, che anche aziende piccole. Quanto è importante tenerle vicine anche per sviluppare collaborazioni particolari? E' per noi fondamentale. Uno dei nostri misteri principali, quel polo della meccatronica, è proprio aiutare queste imprese di ricerca e PMI a incontrarsi fra di loro. Però abbiamo notato che vi sono anche dei piccoli fenomeni spontanei in cui le persone incontrandosi in mensa o al bar, fra di loro scambiano due idee e poi iniziano a collaborare. Luca Capra, grazie. Adesso noi scendiamo proprio nel corpo principale del polo per andare a vedere cosa si fa, cosa si produce. Ecco, ci troviamo in questo momento negli spazi di una delle aziende più grandi che sono qui al polo della meccatronica di Rovereto, la Ducati Energia. E siamo con Adriano Zanfei. Che cosa si produce qua dentro? Allora, come gruppo Ducati Energia, noi questo particolare centro di ricerca sviluppiamo sulle energie rinnovabili. Il centro di ricerca è nato nel 2006 con un progetto fatto in collaborazione con la provincia di Trento per lo sviluppo di un quadriciclo elettrico leggero. Nel corso poi del 2011-2012 abbiamo iniziato un altro progetto in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio intelligente dell'inquinamento atmosferico. Pertanto abbiamo sviluppato un concetto nuovo di bicicletta elettrica dove tutta la tecnologia risiede nel mozzo, batterie, motore, inverter, sensore di copie, tutto all'interno. In più alcune particolari versioni come questa hanno una particolare elettronica in grado di discretizzare la presenza di inquinanti. Le persone a cui vengono affidate queste biciclette sono in grado di, girando per il territorio comunale, fare una mappatura degli inquinanti. Quante persone lavorano qui dentro? Noi siamo in forte espansione, attualmente siamo in 9 persone, ma il nuovo progetto ci consentirà di crescere fino a 14-15 ricercatori. Grazie Zanfei ed ora noi cambiamo completamente luogo e ci spostiamo in un'altra azienda che è qui al polo della meccatronica, una piccola start-up. Andiamo a vedere. Dalla Ducata Energia ad un'azienda completamente diversa, la Chirana. Siamo qui con Enrico Gallus. Di cosa vi occupate voi? Noi ci occupiamo di micro lavorazioni laser, quindi sviluppiamo i processi per arrivare poi alle lavorazioni conto terzi. Che cosa sono le micro lavorazioni laser? Sono lavorazioni, come dice il termine, molto piccole che servono per realizzare delle microparti a sostegno del crescente interesse per la miniaturizzazione di tutti i dispositivi. Infatti vediamo proprio degli esempi di alcune lavorazioni. Qui il foro addirittura di 2 micron. Esatto, qui questo per esempio è un micro ugello di 2 micron, quindi parliamo di 2 millesimi di millimetro, una cosa veramente molto piccola. È una delle applicazioni, ma possiamo per esempio vedere dei microfiltri metallici. Possiamo fare dei tagli, quindi in questo caso sono delle aperture ottiche. Da quanto esistete e da quanto tempo siete qui? Abbiamo costituito la società alla fine del 2012 e direttamente qui in Trentino. Quindi noi siamo proprio nati all'interno del polo tecnologico di Rovereto, in Trentino Sviluppo, dove ci troviamo adesso. Grazie, ma ora andiamo proprio a vedere quello che è il cuore pulsante dell'azienda, il macchinario che permette queste lavorazioni di precisione. Vi facciamo vedere come funziona, lo faremo lavorare e vi faremo vedere cosa è in grado di fare. Andiamo a vedere. Allora Gallus, questo è un po' il cuore pulsante della vostra attività. Che tipo di lavorazioni si riescono ad effettuare con questi macchinari e quali sono le applicazioni in campo industriale? Beh, allora, diciamo che questi macchinari sono macchinari molto flessibili che ci siamo costruiti noi e questo permette quindi di servire tanti campi di applicazioni diversi che possono andare dall'automotive all'aerospaziale, dalla microelettronica al fotovoltaico fino alla medicale, le biotecnologie e così via.